no che sei non ci provare barbone non si mozzica il secchio no 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 guardate il cane è barbone si arrabbia con il secchio perchè non riesce a prendere il suo osso no guardate il barbone non mi pare il barbone non mi vince lui la cura la cura si arrabbia con il secchio perchè non dice quello che deve lui ok 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 non è che se abbagliere e desce fuori l'osso eh ok teo no teo qua guardami 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 guardami